18 giugno 2021 Un corpo luminoso Dal Vangelo secondo Matteo Capitolo 6 In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Non accumulate per voi tesori sulla terra dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano Accumulate invece per voi tesori in cielo dove né tarme né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano perché dove è il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore La lampada del corpo è l'occhio perciò se il tuo occhio è semplice tutto il tuo corpo sarà luminoso ma se il tuo occhio è cattivo tutto il tuo corpo sarà tenebroso Se dunque la luce che è in te è tenebra quanto grande sarà la tenebra La realtà del nostro corpo corrisponde a quella del nostro spirito Anche se l'occhio del corpo non percepisce normalmente le cose dello spirito tuttavia accade che ci accorgiamo del bene e del male presenti in noi o in una persona che ci sta davanti da una specie di intuizione dello stato spirituale Chiamiamo normalmente intuizione il sesto senso quella capacità di percepire o riconoscere la bontà o meno di una persona La stessa cosa comprendiamo di noi stessi ci rendiamo conto di essere in uno stato di bontà o di malvagità Si parla per questo di luce o di tenebra poiché la luce che non vediamo con l'occhio del corpo determina molto bene il bene e il male Non si tratta solo di un modo di dire quanto invece la capacità di intuire la realtà spirituale della luce di Dio che si riflette su di noi Diciamo una persona tenebrosa o luminosa perché in modo immediato definiamo chi è nella luce del bene e della trasparenza della vita mentre le tenebre definiscono chi nasconde qualcosa o porta in sé il male Tradizionalmente tutte le religioni anche con la raffigurazione delle persone buone le rappresentano con una aureola o con una corona di luce che le circonda È una realtà condivisa Dunque il nostro occhio materiale percepisce anche quello che è invisibile poiché il nostro spirito vede e trasmette la realtà dello spirito Così dagli occhi possiamo vedere la luce di una persona o al contrario l'assenza della luce ed il corpo trasmette tali stati spirituali Infatti parliamo anche di viso, aspetto tenebroso o luminoso poiché il corpo trasmette la realtà della propria condizione spirituale Le opere poi definiscono chiaramente la radice, la qualità della pianta che produce un certo tipo di frutti Quello che facciamo è buono o cattivo a seconda che il centro del nostro essere spirituale sia più o meno luminoso più o meno tenebroso Il cuore dunque definisce quello che siamo e l'occhio lo trasmette come pure l'occhio è capace di percepire la realtà spirituale nascosta nel cuore Un occhio attento ed allenato alle cose spirituali sa vedere Quando il velo del corpo sarà tolto vedremo chiaramente lo stato delle cose La realtà dello spirito sarà manifesta a tutti Ma Dio, gli angeli e i santi vedono perfettamente le cose come stanno Solo per noi sulla terra persiste un certo accecamento o una visione solo velata delle cose dello spirito Ciò non toglie però che possiamo capire Il mondo della materia riflette la gloria ovvero la luce di Dio Negli uomini tale gloria è offuscata dalla presenza del peccato che è privazione di luce divina dunque diventa tenebra Il demonio che fu angelo di luce rimane la fonte delle tenebre poiché trasmette il peccato profondo del suo essere La malvasità perfetta di creatura La sua tenebra regna laddove il peccato è accolto Il cuore dell'uomo che pecca si priva della luce di Dio ed accoglie la tenebra del demonio Il cuore traviato dal maligno cerca per suo suggerimento di soddisfare se stesso e lo fa attraverso il corpo e le cose materiali Infatti la materia da cui deriva privata della spinta spirituale per le cose del cielo finisce per guardare se stessa e cercare di satiarsi con le cose materiali Quello che agisce nel buomo è la sua parte spirituale l'anima Il cuore dunque determina l'egoismo e la ricerca di se stesso e della propria soddisfazione Ma avendo un corpo e vivendo in un mondo materiale tale brama è rivolta a tale dimensione L'intenzione dell'uomo è di natura spirituale ma privo della luce divina si rivolge alle cose del mondo La forza dell'uomo è spirituale ma il suo dominio è rivolto alle cose materiali e le usa e ne abusa con la forza di un cuore intelligente e capace ma privo della luce del bene e dell'amore tale forza è diretta e dominata dal male Così la parte spirituale l'anima priva dello spirito di Dio è tenebra e trasmette al corpo e dalle azioni la stessa tenebra mentre un cuore che cerca il bene trova Dio e Dio ridona la sua luce a chi rinuncia alle tenebre e dalle sue opere Quello che pronunciamo nel battesimo permette a Cristo di purificarci dal male e di ridonarci il suo spirito Così il battesimo è illuminazione di Cristo e inizio di una vita luminosa cioè secondo lo spirito di santità Dio vi benedica